Sì, l'Italia è un'attività a 4, 9 bus per 7 provenienti dall'atubicentrale ai primi comuni e aderrata a bilancio 11. Attenzione, per il prossimo avviario 3, avrò la massa da rinagata. Attenzione, per il prossimo avviario 2, avrò la massa da rinagata. Attenzione, per il prossimo avviario 3, avrò la massa da rinagata. Attenzione, per il prossimo avviario 3, avrò la massa da rinagata. Attenzione, per il prossimo avviario 3, avrò la massa da rinagata. Attenzione, per il prossimo avviario 3, avrò la massa da rinagata. Attenzione, per il prossimo avviario 3, avrò la massa da rinagata. Attenzione, per il prossimo avviario 3, avrò la massa da rinagata. Attenzione, per il prossimo avviario 3, avrò la massa da rinagata. Attenzione, per il prossimo avviario 3, avrò la massa da rinagata. Attenzione, per il prossimo avviario 3, avrò la massa da rinagata. Attenzione, per il prossimo avviario 3, avrò la massa da rinagata. Attenzione, per il prossimo avviario 3, avrò la massa da rinagata. Attenzione, per il prossimo avviario 3, avrò la massa da rinagata. Attenzione, per il prossimo avviario 3, avrò la massa da rinagata. Attenzione, per il prossimo avviario 3, avrò la massa da rinagata. Grazie a tutti. Grazie.